Erano da poco passate le 14 del 5 giugno 2020, un tremendo schianto lungo l'autostrada del Sole all'altezza di Badia Alpino. Quattro persone persero la vita, una bimba di appena sei mesi, il fratello di dieci anni e i loro nonni cinquantenni. Adesso la procura di Arezzo ha chiuso l'inchiesta, omicidio stradale plurimo è l'accusa per il conducente dell'auto, Emile Giovane Rom che per un colpo di sonno perse la guida del mezzo sulla corsia a sudda. Le immagini riprese dalle telecamere dell'autostrada mostrarono infatti che il van improvvisamente imboccò la corsia che mette nella piazzola di sosta e finì per schiantarsi contro un tir in sosta. Nella monovolume viaggiavano otto persone provenienti dalla Romania. Erano partiti il giorno prima un viaggio estenuante di 1600 chilometri. Stanco per le ore al volante, Emile non riuscì a riprendere il mezzo quando il padre accortosi che si era addormentato, gridò attento. Quattro le vittime rimaste ferite, poi anche la moglie del conducente, la gemellina della piccola deceduta e il fratello quattordicenne di Emile. Il trentenne rumeno fu arrestato quindi messo ai domiciliari ed ottenne poi il permesso di andare in patria per i funerali celebrati la settimana successiva al drammatico incidente. Poi tornò in Italia. Il procuratore Roberto Rossi adesso completata l'inchiesta ha notificato l'avviso di chiusura indagini che consente all'indagato di depositare memorie o azioni difensive. Poi ci sarà l'udienza preliminare ed il processo.